Ora Zeydorf, Zeydorf viene avanti, non accompagna i libri, poi il pallone dentro per Cacca, attenzione Cacca supera un avversario, il tiro di Cacca, oh, bellissimo, Cacca grandissimo gol, grande, grande, con lo smoke in bianco, che lavoro, è un talento naturale, che lavoro, che lavoro, rivediamo, gustiamoci lo smoke in bianco, uno, due, e di punta, tre, pareggia il mino all'ottavo minuto, ha rubato il tempo tutto, Rivediamo, smoke in bianco Cacca, il tiro, il gol